Nasce Teramo, città capoluogo. È il contenitore dove far confluire le idee progettuali proposte da enti, associazioni ed istituti, che potranno essere declinate e trasformate in opera attraverso l'utilizzo delle risorse messe a disposizione dal Recovery Fund e dalle altre possibilità di finanza agevolata. L'obiettivo primario è quello di costituire le basi per una proposta armonica e organica, finalizzata all'utilizzo delle risorse necessarie a favorire il rilancio della città. Partiamo dalle nostre vocazioni, quindi la vocazione culturale intesa in senso ampio, quindi con un potenziamento dello sviluppo del patrimonio storico-culturale, lo stiamo già facendo, abbiamo tanti cantieri in fase di avvio, pensiamo al Teatro Romano, il Castello della Monica, il Giardino Archeologico, il Mosaico del Leone, il dialogo con la Fondazione, vanno messi a sistema. C'è il rapporto con l'università di ZS, quindi la vocazione universitaria, ricerca e sviluppo, la vocazione commerciale della città, il rilancio delle attività produttive. C'è la Camera di Commercio nella cabina di regia, Camera di Commercio che dovrà cogliere la sfida, che è quella di una fusione che non deve consentire di abbandonare il territorio, ma con Antonella Ballone stiamo lavorando in questa direzione, la ringrazio perché è già attivissima anche nell'ambito di questo percorso. Un percorso che parte dal recovery, ma che non finisce con il recovery, vuole essere un metodo permanente, che vuole cogliere l'opportunità del contratto istituzionale di sviluppo che avevamo chiesto al Presidente Conte e che abbiamo ottenuto per il cratere sismico del centro Italia, che vuole consentire di arrivare a una programmazione europea 2021-2027, nell'ambito della quale, consentitemi di dirlo, già da subito chiediamo che vengano ristanziati immediatamente i fondi previsti per l'ex manicomio. Nell'ambito di questo contesto di sviluppo della nostra città, dove c'è l'università, c'è la sovrintendenza, quindi il ministero, ci sono tutti gli attori istituzionali, il recupero dell'ex manicomio, dove abbiamo 30 milioni di euro che erano previsti e sono stati al momento congelati, voglio utilizzare questo termine, chiediamo che vengano immediatamente rimessi a disposizione, perché quando tu hai un territorio in cui tutte le istituzioni, sinergicamente, si muovono in un'unica direzione, le istituzioni le devi ascoltare, perché Teramo-Città-Capoluogo è un'esigenza che vogliamo assolutamente sviluppare insieme alla provincia, perché non è conflittuale, anzi è sinergico con l'azione della provincia, affinché il nostro territorio, a partire dalla città-Capoluogo di provincia, non resti più la Cenerentola d'Abruzzo, non lo consentiremo più a nessuno, ecco perché un territorio unito questa voce può farla sentire e sono certo che lo farà. Grazie a tutti.